Vogliamo sottoporvi a questo piccolo quiz riuscite a riconoscere subito la somiglianza tra questa donna e sua figlia. Lei, infatti, è la madre di una celebrità molto conosciuta e amata nel mondo. Nel corso degli anni questa attrice è saputo ottenere diversi incarichi, alcuni prestigiosi ed altri meno ed in ogni ruolo che ha interpretato dimostrato di essere un talento nato in questo campo. Riconosci questa donna? È la madre di una celebrità del cinema molto famosa la donna che vedi nella foto è davvero una bellissima signora. Figlia di lei. Non è da meno. La donna che lo ha pubblicato è la sua famosa figlia. La somiglianza è evidente. Il sorriso è praticamente lo stesso. Ora proveremo a darvi qualche indizio. Molti VIP sono abituati a condividere le foto dei membri della famiglia sui social network. Persone non hanno nulla a fare con il mondo dello spettacolo e preferiscono restare nell'ombra e lasciare il loro parente abbia la luce merita grazie al suo talento. Ma quando un personaggio piace, la curiosità da parte dei fan è tanta. Alcuni hanno solo bisogno di sapere com'era la loro vita, quando erano bambini o non avevano ancora. Tutta la notorietà di cui godono oggi. Se amiamo un personaggio vogliamo sapere tutto di lui. Dove hai vissuto e dove vivi. Se hai fratelli o sorelle e chi sono i tuoi genitori. Mamma di una celebrità forse. Proprio per questo motivo, la questa signora ha cominciato subito a fare il giro del web. Questa nota attrice, infatti, ha voluto mostrare al mondo la sua adorata mamma scegliendo un giorno davvero speciale per la donna. Il suo compleanno. La signora è bionda ma la figlia, almeno in passato. Non aveva il suo colore di capelli. Il suo, infatti, era più rosso scuro. Anche i suoi occhi non sono identici l'attrice di Hollywood ha infatti dei bellissimi occhi castani. Nonostante le differenze cromatiche. La somiglianza è abbastanza evidente le caratteristiche possono dire molto. Ami moltissimo il calcio e l'anno scorso hai addirittura ricevuto ufficialmente il commiato per seguire in diretta la partita tra Real Madrid e Barcellona. È qui che ha potuto realizzare un sogno per lei. Scattare una foto con il campione del mondo. Lionel Messi. È sempre stata una tifosa del calciatore argentino. Il post della nota attrice diventa virale e questa attrice ha fatto molto discutere in passato per le sue relazioni amorose. Una volta ha partecipato a un episodio Friends come amica di lunga data Chandler. Così ha avuto una relazione con Matthew Perry. Purtroppo l'attrice lo lasciò non molto tempo dopo per il personal trainer che all'epoca la allenò. Spezzando il cuore dell'attore della celebre serie tv. A Jennifer Aniston. All'epoca Rachel nella nota serie. Non piaceva tutto questo ma si era già ben presa cura della sua amica e collega. È. Quindi. Una donna che ha fatto imere tanti uomini oltre alla bellezza. Questa donna ha sempre avuto fascino. Molti avranno già capito di chi si tratta. Su IG ha commentato lo scatto così. La mia dolce mamma.